Il cantiere Copra Volley fa registrare anche oggi un'importante novità. Nel roster che la società bianco-rossa sta allestendo ci sarà per il quinto anno consecutivo anche Davide Marra. Per il libero calabrese si tratta di un rinnovo ampiamente previsto e che di fatto riempie una delle tre caselle mancanti all'interno del gruppo a disposizione di coach Andrea Radici. Ora all'appello mancano un libero di riserva oltre ad uno schiacciatore. Per ciò che concerne il ruolo che Smerilli ha lasciato vacante, per lui si parla di un trasferimento a macerata, si dovrebbe puntare ad un giovane di belle speranze. Per l'attacco il direttore Cottarelli sarebbe sulle tracce di Ivan Milikovic. Si tratterebbe di un colpo da 90 e che il presidente Guido Molinaroli non ha esitato a definire come un'autentica ciliegina sulla torta bianco-rossa. Nell'eventualità in cui andasse in porto l'affare con il giocatore 34enne lo scorso anno in forza al Fenerbahce in Turchia, si profilerebbe un dirottamento del francese Leroux nel ruolo di centrale.